Ma adesso ho cambiato idea, che devo fare? Devo dare meloni? Non lo mangio, non lo mangio, non lo mangio, non so se lo mangio, lo butto anche. No, te lo metto in un bico. Vallo a buttare, vallo a buttare. Vallo a buttare. Lo butto. Fai una foto, aspetta, fai una foto al cibo, mandala a Cassin e digli, questo cibo che tu vedi che è buonissimo. Probabilmente non sa nemmeno cosa sia Cassin. Cassin non sa cosa è il sushi, lo intuisce che è il cibo perché lui c'ha gli occhi. Intelligente. Subito che in Africa... Ma lo sai che non mi stavo più prendendo i soldi per Cassin? Puoi vedere che pure lui è volato. Poi magari fai come il tamagogyne, perché non altro. Che vogliamo fare? Lascialo qua e poi lo mettiamo in frigo, dai.